buongiorno a tutte e tutti e benvenuti come sempre a medicina clandestina oggi parliamo di affari di cuore parliamo di cardiologia non di sentimenti ne parliamo a margine dell'otto marzo perché proprio a margine dell'otto marzo è uscito un documento interessante pubblicato dall'american earth association che è l'associazione delle cardiologhe e dei cardiologi americani hanno pubblicato un grosso dossier sui problemi del cuore delle donne dicevamo nell'ultimo appuntamento di come la ricerca fatichi a occuparsi di problemi femminili le patologie cardiovascolari sono la principale causa di morte per le donne in italia il 43 per cento delle donne muoiono per problemi di cuore contro il 33 per cento circa dei maschi quindi sono realmente un problema da affrontare ci sono delle differenze fra i sessi nella morfologia nelle terapie nel modo in cui si manifestano le patologie l'abbiamo già un po' visto la settimana scorsa due settimane fa e non vengono abbastanza studiate questo numero speciale per le donne è legato a un'iniziativa che si chiama go ride for women va in rosso per le donne che è un network di centri di ricerca americani che hanno dei progetti dedicati al cuore delle donne in cui lavorano naturalmente ricercatrici e ricercatori questo numero di cui vi metterò un link per cui chissà l'inglese ha voglia di approfondire o magari vuol far vedere qualcosa al proprio medico può trovare la fonte originale è un corposo dossier di studi sulle donne che è interessante per due motivi per il tipo di dati che escono fuori e anche perché è un esempio di quello che si può fare quando ci si mette a fare ricerca di medicina di genere vengono fuori delle cose interessanti per esempio già in passato questo non è un articolo apparso qui ma è venuto fuori dagli studi di questo network che la mancanza di sonno per le donne è un fattore di rischio maggiore che per gli uomini il che è interessante perché si sa che le donne spesso hanno problemi a dormire a sufficienza riposare a sufficienza per la quantità di impegni che hanno il grosso studio diciamo la cosa centrale di questo dossier riguarda sempre le donne la stanchezza e lo stress perché loro hanno preso i dati di un grosso studio uno storico studio osservazionale sulle donne 80.000 donne è un campione un po' vecchio è un campione principalmente le donne bianche quindi ha qualche diciamo o in certe bias si dice in termine tecnico quindi qualche fattore che ci dice che non è un campione generalizzato però è talmente grande che le informazioni che dà sono comunque da prendere in considerazione e hanno fatto una cosa interessante hanno studiato gli effetti combinati dello stress da lavoro e dello stress in ambito familiare che è una cosa che generalmente non si fa ed è venuto fuori che le donne sono particolarmente vulnerabili esattamente a questo tipo di stress ora voi mi direte bella forza cioè lo sapevamo anche noi che correre dall'ufficio alla casa i bambini il nonno il magari la persona malata ad assistere la spesa da fare gli appuntamenti di lavoro per il giorno dopo è più stressante grazie sì è così è vero solo che è così che funziona l'epidemiologia questo tipo di dati pubblicati in uno studio di alto livello questo lo è vuol dire che questi fattori vengono presi in considerazione nelle linee guida che si considera che intervenire su questi fattori non è più solo una cosa carina da fare ma è un'azione utile per la salute pubblica e quindi diciamo diventa una cosa veramente importante infatti le autrici perché sono in maggioranza donne dello studio raccomandano una maggiore attenzione anche da parte dei medici che magari osservano i sintomi fanno diagnosi ma non prestano particolare a questo fattore in particolare come corollario di questo c'è un'attenzione su quello che si chiama burnout cioè una spossatezza che è più che fatica è fatica demotivazione frustrazione tutte mescolate insieme che è un particolare fattore di rischio per le donne e che è legato si sa per questo che le donne ne soffrono in maniera particolare oltre che alla quantità di lavoro o forse anche più che alla quantità di lavoro al fatto di non potersi muovere in autonomia di essere frustrati di sentirsi un cricetto sulla ruota insomma chi è molto stanco ma è contento di cui è gratificato di quello che fa può essere affaticato ma difficilmente va in burnout in burnout ti trovi quando vorresti fare e non puoi fare meglio quando vedi le soluzioni e non le puoi mettere in atto quando senti insomma che non sei padrona del tuo tempo e del tuo lavoro questo è un po' lo studio centrale della ricerca e oggi è molto altro c'è un altro studio interessante sullo stress anche questo che tocca un problema drammatico poco toccato in nella nella ricerca ed è una relazione tra violenza sessuale e rischio cardiovascolare questo è uno studio dell'università di Pittsburgh in cui hanno visto che la violenza sessuale aver subito una violenza sessuale rappresenta un fattore di rischio per la presenza di plaque carotidea insomma di aterosclerosi carotidea che è una porta che apre verso eventi cardiovascolari di vario tipo ictus trombi e altre cose poco gradevoli questo cosa vuol dire che si deve davvero valutare la storia delle persone non è che le persone che hanno questo tipo di rischio di event che hanno subito questo tipo di evento devono essere monitorate con particolare attenzione perché sono da questo punto di vista persone fragili anche questo un piccolo tassello di un mosaico complicato che però ha come obiettivo quello di assistere meglio le persone cioè di non guardare semplicemente il sintomo e quello che succede spesso alle donne un po' di palpitazione un po' di affanno signora ma sarà stanca ma dorme bene magari prenda una pasticca le do la pasticchina per la pressione mentre bisogna guardare il quadro generale e il quadro generale prevede anche l'alimentazione di questo parleremo più avanti perché è una delle cose di cui io mi occupo con particolare piacere e passione quindi mi fa piacere condividere con voi mi farà piacere condividere con voi alcune dei temi su cui lavoro però in questo dossier c'è un altro studio che è interessante che vale la pena citare che mette in relazione la fonte delle proteine consumate con le malattie cardiovascolari anche qui viene fuori una cosa abbastanza ovvia però è vero che molto spesso le diete parlano gli studi sulle diete parlano di diete proteiche o di diete ricche di carboidrati senza prestare troppa attenzione al tipo di proteine che vengono consumate qui invece hanno visto e anche qui lo sapevamo però è interessante che sia venuto fuori in questo modo che un consumo elevato di proteine vegetali quindi cereali o soprattutto legumi o comunque le proteine che si trovano nei vegetali è associato a un minore rischio cardiovascolare rispetto al consumo di proteine animali soprattutto a quelle che negli studi si chiamano carni processate che vuol dire sostanzialmente salumi ora i salumi americani sono più lavorati e quindi meno sani di quegli italiani però comunque resta il fatto che il panino col salame ve lo dico in soldoni fa meno bene del panino con le falafel sapete quelle crocchette di di ceci o fave o altri legumi che si mangiano nelle kebaberie generalmente chi non vuole mangiare carne e in generale recuperare i nostri buoni vecchi fagioli, ceci, lenticchie o anche soia se piace ci cerchi o altre cose è un ottimo modo per mangiare bene e proteggere il nostro cuore quindi attenzione che se qualcuno in famiglia ha problemi di cuore forse la bresaola anche magra o il prosciuttino magro non è la cosa ideale da dargli altri studi ve ne menziono un paio sono veramente tantissimi e vi invito ad andare a vedere questa cosa però come dicevo al di là del merito dei singoli studi il problema è l'approccio cioè abbiamo fatto ricerca guardando in che cosa le donne sono diverse dagli uomini e sono venute tantissime cose il che vuol dire che si deve fare medicina di genere c'è un'altra cosa che riguarda le diete prese da un altro punto di vista che è la relazione tra massa grassa e rischio cardiovascolare anche qui è venuta fuori una bella differenza nel senso che noi sappiamo che i muscoli la massa magra è un fattore preventivo nei confronti del rischio cardiovascolare se uno è bene in forma è più protetto è venuto però fuori che per i maschi il grasso è un fattore di rischio per le donne non necessariamente perché? perché le donne hanno comunque uno strato adiposo che fa parte della loro configurazione fisica non sto parlando della pancia che viene con la menopausa perché il grasso addominale è comunque un fattore di rischio sto parlando delle ciccette che ci stanno antipatiche i fiancotti le cosciotte quelle robe lì che possono non piacerci dal punto di vista estetico ma non sono un rischio dal punto di vista della salute anzi entro certi limiti potrebbero essere anche un fattore protettivo questo prevede un'indicazione clinica importante perché mentre per gli uomini l'indicazione è primariamente di perdere peso e di fare attività fisica per le donne l'indicazione è di fare attività fisica anche senza perdere peso perché l'importante non è togliere il rotolino di ciccia che ci dà fastidio quando siamo in costume ma è farsi muscoli tenere in allenamento l'organismo e poi sappiamo bene che fare sport su questo sarò noiosa perché ve lo dirò tutte le volte fare attività fisica ma non parlo di fare un'ora di palestra o di zumba sto parlando di fare una passeggiata possibilmente tutti i giorni anche una mezz'oretta ma possibilmente tutti i giorni fa bene a tutto fa bene al cardiovascolare fa bene al respiratorio fa bene al nervoso un altro tema che affronteremo è la depressione e vedremo anche come l'attività fisica ha un effetto antidepressivo molto forte fa bene alle ossa per chi si avvicina alla menopausa e quindi è veramente una riserva preziosa che non dobbiamo trascurare come vi dicevo questo studio è da guardare ultima cosa naturalmente ci sono anche delle analisi sullo spazio delle cardiolo che trovano le cardiologhe rispetto ai cardiologi c'è anche uno studio italiano su questo che affronta un tema particolare cioè il fatto che in cardiologia interventista cioè dove si usa le radiografie o le tecniche radiografiche per guidare degli interventi le donne sono molto poche perché in quanto potenzialmente fertili o in gravidanza sono considerate da proteggere rispetto alle radiazioni e i sistemi di protezione inclusi proprio la forma dei gambiuli che gli operatori si mettono sono molto tarati sulle esigenze maschili e molto poco sulle esigenze femminili quindi c'è questo appello che viene dalle cardiologhe italiane su questo tema che mi sembrava interessante ricordarvi che dire altro è da vedere questo documento è da sperare che di documenti di questo genere ne vengano fuori sempre di più anche nelle società nazionali naturalmente l'America Heart Association è uno dei pilastri della cardiologia mondiale quindi vuol dire tanto che l'abbiano fatto loro però ci sono anche delle associazioni mediche di donne in Italia che si stanno muovendo in Europa ce ne sono altre ne abbiamo già parlato ne riparleremo per ora grazie a tutte e tutti e buona passeggiata dato che l'invito è questo e se vi piace anche buona zuppa di legumi grazie a tutti